Normalmente sono loghi e brand degli sponsor a finire sull'abbigliamento sportivo. Questa volta è l'abbigliamento a finire addosso ai consorziati della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che questa mattina alla Vitrifrigo Arena hanno sfilato con la nuova linea WL Lifestyle Elegance presentata dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in collaborazione con Prodi Sport ed RA che hanno realizzato la nuova linea. Polo, Giubbetti, T-shirt, tante novità per identificare i consorziati, per dare una novità anche ai tifosi. È dicembre, è tempo di regali ed ecco che WL Prodi Sport ed RA partono con questa nuova linea con prezzi contenuti tra i 39 e i 65 euro. Volevamo fare un regalo ai nostri consorziati ma chiaramente anche a tutti i nostri tifosi e tifose. È una cosa a cui tenevamo molto e sono qualche tempo, direi molto tempo, che parlavamo con gli amici Prodi per trovare un abbigliamento più elegante e sportivo possibile che chiaramente non avesse uno sponsor ma un abbigliamento che identificasse la nostra società. Ario Costa ha abbracciato questo progetto ed ha partecipato con noi anche alla creazione styling di questa nuova linea che oggi presentiamo e che ci accompagnerà perché non sarà logata con nessuno sponsor ma si cercherà di portare avanti il brand WL e ci accompagnerà per i prossimi 5 anni. Per la prima volta nel mondo WL abbiamo creato alcuni articoli, in particolare questa polo che vediamo qui alle nostre spalle in bianco sia manica corta che manica lunga con il design e lo styling da donna. La cosa principale che vorrei soffermare è che come vedete il logo WL è tutto tono su tono sul capo viene richiamato il bottone rosso e bianco per i colori sociali, l'etichetta è brandizzata come Vittoria Libertas perché questa è una linea Vittoria Libertas e di conseguenza viene lanciato anche poi nei particolari dietro un piccolo cenno in bianco e rosso. Ovviamente sul bianco che è stato scelto per la donna perché la linea da uomo invece sarà monocolore e sarà di un blu cupo. Di conseguenza l'intento è quello di dare una certa eleganza, un gusto al tifoso WL che sente di meno l'effetto supporter. Quindi abbiamo voluto distinguere quello che è il merchandising della canotta, della felpa, della t-shirt, dello staff e di quant'altro che con gli accessori, con questo particolare che va più vicino al mondo dei conserziati.